Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 15 dove per un incidente avvenuto al km 97 è stato chiuso il tratto tra Aulla e l'allacciamento con la 12 in direzione La Spezia. Per questo motivo si sono formati 3 km di coda tra Pontremoli e Aulla, sempre in direzione La Spezia. In A1 in direzione Bologna, acco dei attratti per il traffico intenso tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A11 per lavori di pavimentazione, domani notte in orario 22.6 sarà chiuso lo svincolo di Lucca Est in uscita per chi proviene da Firenze. Per quanto riguarda la viabilità cittadina, Firenze in via Faenza sono in atto i lavori di riqualificazione della carreggiata e dei marciapiedi. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!